Tutti sono parecchio forti questi ragazzi, hanno fatto vedere di andare bene anche in corse ben più complesse, dal chilometraggio ben più complesso che non il Gran Premio della Marseillaise. Io direi che per entrambi può essere l'anno della definitiva consacrazione ad un livello molto alto, poi sapere dove possono arrivare questo è magari un pelino più complicato, però me li aspetto, mi aspetto di nominarli e di sentirli nominare spesso in stagione. Vi sarete chiesti perché Primo gli ha detto non ti mettere a ridere, la domanda era così seria? No, perché questo aspetto era stato oggetto di un appunto che andava e veniva nel nostro foglio su cui scriviamo i nostri appunti. Giacomo, indicazioni da tante parti del globo, indicazioni da tanti corridori che abbiamo detto che è difficile pesare inizio stagione e quindi io, in conclusione, non voglio farti una domanda su un nome, o meglio sul nome di un singolo, ma ti faccio una domanda su un collettivo. Uno a caso. Uno a caso. Abbiamo avuto delle conferme smentite, impressioni in questo inizio di stagione da parte di qualche squadra in particolare e che tipo di impressioni sono state? Qualche squadra a caso, quella che ti addormentavi e vincevano loro, ti svegliavi la mattina e vincevano loro. Vabbè, chiaramente il riferimento alla Quickstep è stato molto divertente la cosa con Stibar e Devenance tra Welta San Juan e Cadele Evans Great Ocean Road Race, perché sono andati a letto a mezzanotte quello che era, visto l'ultima notifica su Twitter. Ah, ha vinto Stibar con una bella azione da finissero alla Welta San Juan, mi sono svegliato la mattina. Ah, com'è andata la Cadele Evans Great Ocean Road Race? Ha vinto Devenance della Decaion in Quickstep. E vabbè, però raga, cioè, sono sempre loro. L'unico sfigato che hanno in squadra è l'addetto stampa, fa una vita di merda che deve passare tutta la giornata a scrivere che qualcuno della squadra ha vinto e a fare mosti in continuazione per dare comunicati sulle infinite vittorie alla Decaion in che giorno, notte, pomeriggio, sera, vincono sempre. Ne hanno sei in quattordici giorni di corsa per ora, che sono tante sei vittorie in quattordici giorni di corsa. È chiaro che c'è una generale in mezzo, quindi sono cinque vittorie nelle singole competizioni. Più la classifica generale della Vuelta San Juan, è arrivato lo Sprinter Nuovo, ha iniziato vincendo, è arrivato l'anno scorso. Remco e Venepul è cresciuto come un fattoriale, Venepul ha vinto. Alla Filippa e Box, Hodeg, non è stato, onestamente è stato lontano dall'essere presentabile in questa sei giorni argentina. Eppure loro vincono sempre. Primo. C'è poco da dire, peraltro con... Un collettivo a caso. Sì, con Alaphilippe che si è dovuto ritirare la Vuelta San Juan, con Hodeg che non ha fatto benissimo in Argentina, ancora un po' così. Cioè riescono a sostituire un nome con un altro, riescono ad imporsi in certi contesti che in cui l'anno prima si erano imposti in volata. Quest'anno alla Cadelemans Gretosian Road Race, e questo ho pensato molto stessa settimana, cioè l'anno scorso avevano l'uomo per vincerla in volata, e l'hanno vinta in volata. Quest'anno c'erano l'uomo per vincerla in volata, la corsa non si è risolta in volata, si risolve con una fuga a 17, in cui, cavolo, ne avevano uno soltanto. Ed era un ragazzo di 36 anni, veterano di lungo corso, che in carriera aveva vinto sei volte, di cui quattro in un anno solo. Cioè, la vincono con lui. È una cosa che, secondo me, non è soltanto frutto del caso, anche in questi contesti. C'è un lavoro dietro molto importante. Mi ero segnato una cosa che avrei voluto dire prima, rubo soltanto un minuto per dirla adesso. Abbiamo parlato del velocista di punta di Bennett, di Decaunic, che è Sam Bennett. L'anno scorso abbiamo fatto qualche battuta su Bennett, sul passaggio di Bennett alla Decaunic. Non so se ricordi, Giacomo, lascia in un contesto dove c'è molta concorrenza. Sì? Ah, sì, sì. Sul fatto che lascia un contesto in cui c'è molta concorrenza e va a finire un altro contesto in cui ci sono Jacobs e Neode. Ti ricordi che di sta cosa si è parlato tanto, si è ironizzato tanto. Torniamo un attimo seri. Secondo me, impostare un calendario dovendo fronteggiare la concorrenza di Sagan e Ackerman è una cosa veramente molto diversa che mettersi in concorrenza con Jacobs e Neode. Quindi, come l'anno scorso queste battute sono state fatte, le ho fatte anch'io, quest'anno si trova in una situazione veramente molto diversa, assolutamente non comparabile. Adesso è il primo violino. Adesso è il primo violino. Jacobsen è un ottimo velocista, un grandissimo, quello che mi piace un sacco, può crescere tantissimo. Però, ad oggi, il primo violino è in casa Decao in Quickstep e Sam Bennett, per le volate. E per chiudere, su Bennett ti dico una cosa. Questo porta lo Sprinter ad avere un atteggiamento completamente diverso. Perché in un anno, a poche occasioni, è stato l'anno scorso, in cui effettivamente non ha avuto tante occasioni. Quando è stato chiamato, ha risposto sempre presente. Solitamente lo Sprinter è un corridore principe in una squadra, un corridore che raramente paga la concorrenza. Bennett si è trovato a dover fronteggiare questa situazione, ne è uscito alla grande. Quest'anno, come dice Giacomo correttamente, è assolutamente il primo violino. Si è regala un'altra stagione da 12 vittorie. Bennett ha fatto la gavetta, ma dovremmo parlare di lui, secondo me, in altri termini, assolutamente. Bene, siamo arrivati in conclusione dell'episodio numero 135. Io vi ricordo, come sempre, che potete contattarci sulla nostra mail cyclingchronicles.podcast.gmail.com Su Facebook e Instagram, come Cycling Chronicles, su Twitter, c'è underscore, c'è underscore podcast. E vi ricordo che da quest'anno abbiamo un sito internet perfettamente funzionante, cyclingchronicles.com e c'è la pagina Patreon. Abbiamo già i nostri primi Patreon. Sappiate che nei prossimi mesi ci organizzeremo per farli venire in trasmissione, perché questo rientra tra gli onori che conseguono dall'aver fatto, dal fare mensilmente, una donazione. Primo, niente pronostici per questa settimana, siamo inizio stagione, possiamo starcene ancora tranquilli tranquilli nel nostro fantastico mondo degli unici che ogni tanto ci azzeccano. Però settimana prossima ci sono un po' di inizi di stagione interessanti. C'è quello di Dumoulin, ad esempio, la valenziana, mi viene in mente. Sei tu o il cruise control? Sei rientrato? Sei tu? Sono io, sono io, sono io. Vi ricordate che fa gli annunci con la versione registrata, quindi mi accerto se sia lui. Sì, c'è il debut di Dumoulin. Mamma quanta curiosità quest'anno su Dumoulin. Madonna quanta curiosità. Comunque, tolto questo ultimo spunto di natura tecnica o strettamente ciclistica, ti ringrazio come sempre per la compagnia, per la chiacchierata. Grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto a tutti. Noi ci sentiamo settimana prossima, quando non so ancora di cosa parleremo, ma sicuramente ve lo faremo sapere, se non altro, nelle puntate. A presto, ciao ciao!